fratelli sorelle pace del signore buona giornata a tutti siamo di nuovo insieme per leggere la parola di dio stamattina leggeremo nel capitolo 3 della prima pistola di pietro i versi da 1 fino a 7 si affronta un argomento qui che quello della delle relazioni tra marito e moglie è un argomento importante la famiglia è un istituzione divina libro della genesi capitolo 2 dopo aver formato la donna dalla costola dell'uomo dio stabilisce che l'uomo lascerà suo padre e sua madre si unirà sua moglie e due saranno una stessa cosa gesù riporta in un suo discorso questo verso e aggiunge che non deve l'uomo separare ciò che dio ha unito il matrimonio oggi è un'istituzione sotto attacco innanzitutto perché si presentano delle forme alternative al modello biblico ad esempio la convivenza la bibbia non parla di convivenza la bibbia parla di matrimonio quindi di un impegno preciso che l'uomo prende verso la donna e che la donna prende verso l'uomo e questo matrimonio è caratterizzato da un'unione che deve rimanere tale fino a quando non ci sarà il venir meno a causa della morte di uno dei due perché sotto attacco oggi perché invece si tende non solo a proporre dei modelli alternativi la convivenza ma anche il matrimonio tra persone che appartengono allo stesso sesso ma anche sotto attacco perché con facilità oggi si pensa che ci si possa separare solo perché ci sono delle divergenze solo perché si è spenta si è spento scusate il fuoco della passione no non è così da un punto di vista biblico le divergenze devono essere superate con l'aiuto del signore le divergenze devono essere affrontate e le divergenze devono essere un'occasione di crescita anzi devono essere un'occasione per saldare il rapporto tra marito e moglie una separazione è sempre un fallimento e lo è ancora di più se ci sono dei figli perché i figli subiscono le conseguenze di tutto quello che avviene nella famiglia quando non c'è pace i figli ne risentono e il loro sviluppo psicologico viene fortemente turbato quando ci sono delle separazioni ancora di più ecco perché la parola di dio insegna che il matrimonio è qualcosa di indistrubile nel matrimonio marito e moglie hanno dei ruoli diversi ed è necessario che questi ruoli vengono ancora oggi rispettati sia nel senso di accettare il ruolo che dio assegna al marito e alla moglie nell'ambito della famiglia sia nel senso di rispettare il ruolo che dio ha dato al proprio partner nella famiglia la moglie deve rispettare il marito per quello che dio gli ha dato come ruolo il marito deve rispettare la moglie per quello che dio gli ha dato come ruolo qui non si tratta di stabilire chi è che comanda si tratta semplicemente di cercare insieme con l'aiuto del signore ripeto facendo riferimento ai principi della parola di dio si tratta di portare avanti la propria famiglia e di farla prosperare soprattutto se si hanno dei figli è necessario che tutto venga fatto con lo scopo di onorare dio ma con lo scopo anche di garantire ai propri figli uno sviluppo emotivo uno sviluppo psicologico ma anche uno delle opportunità di una vita felice e serena allora marito e moglie devono essere un po meno egoiste secondo il modello biblico ed essere molto più altruisti guardare al bene del proprio partner guardare al bene dei propri figli e delle volte essere pronti anche a a subire qualche conseguenza negativa in vista appunto dell'armonia naturalmente il signore quando noi abbiamo questo desiderio di onorare il suo nome saprà come venire il nostro aiuto saprà come rialzarci unione della famiglia dunque unione che ci permette di poter essere strumenti nelle mani di dio per la salvezza eventualmente del marito della moglie che non sono salvati questo lo dice l'apostolo pietro ma lo dice anche l'apostolo paolo nella prima corinzi quando nel capitolo 7 parla del ruolo della moglie del marito nel matrimonio la nostra condotta pura e rispettosa e qui in un certo senso pietro si riallaccia a quanto ha detto nei versi precedenti riguardo al comportamento del cristiano nella società la nostra condotta pura e rispettosa o caster rispettosa è qualcosa che può arrivare a raggiungere il cuore del partner nonno o salvato e spingerlo a ricercare a sua volta la salvezza per questo è importante che ognuno di noi sappia rispettare il marito o la moglie sappia rispettare il ruolo che dio gli ha assegnato non solo quando c'è una armonia nella famiglia non solo nei benefici allo sviluppo psicologico dei figli e ne risenti in modo positivo la vita sia del marito che della moglie ma anche da un punto di vista spirituale c'è un progresso perché le disarmonie che si vengono a creare nella famiglia sono un ostacolo alle preghiere stesse sono un ostacolo allo sviluppo della vita cristiana nella nostra vita ed è importante quindi che quando si vengono a creare degli scontri delle divergenze questi vengono superati ai piedi del signore disponendosi a perdonarsi vicendevolmente e a ripromettersi di il rispetto che è necessario o nell'ambito dell'unione matrimoniale delle volte si vengono a creare delle ferite profonde e questo ci dovrebbe spingere a riflettere bene prima di parlare e prima di dire delle parole che possono essere offensive nei confronti del marito o della moglie queste ferite quando si vengono a creare poi devono essere curate e questa cura deve essere fatta dal signore perciò mi voglio rivolgere a te moglie che in questo momento sei ferita e che ti senti lontana da tuo marito di pregare il signore di cercare l'aiuto di dio e se necessario di pregare per tuo marito affinché il signore lo illumini e lo aiuti magari ad avere un comportamento che sia migliore parla con tuo marito e fagli sapere quello che è necessario affinché la vostra vita matrimoniale possa essere una vita migliore e tuo caro marito che sei ferito forse da una moglie che non ha dei comportamenti onesti e rispettosi a tua volta prega per lei aiutala affinché possa realizzare dove sta sbagliando parla con lei e insieme cercate di trovare una soluzione per il bene del vostro matrimonio per il bene della vostra vita spirituale e se ci sono dei figli per il bene dei vostri figli sì il matrimonio è sotto attacco ma dio ancora oggi ha dei consigli da dare mediante la sua parola a mariti e mogli e io spero e sono sicuro che tutti quanti noi vogliamo ascoltare questi consigli perché non sono parola di uomo sono parola di dio nel rileggere questo passo voglio invitarvi a riflettere a meditare e a praticare lo voglio fare lo voglio dire a voi ma lo voglio dire anche a me a praticare ciò che la bibbia insegna cari fratelli e care sorelle la pace del signore il suo amore la sua grazia sia con voi e con le vostre famiglie e che la benedizione di dio ci possa aiutare ad andare avanti anche in questo nuovo giorno dio ci benedica grazie grazie